Come e quando si manifesta il tuo sacrificio, questi sono i tuoi mezzoni, le fragilità. Ci amo, sono pronto ad essere distrutto, sono pronto a morire come individuo. Quanto sono legato a questa vita, cosa muove realmente le mie azioni, a vari livelli su questo set illuminato, scavo e scavo e trovo bassezze, scavo ancora e trovo sogni infantili, scavo e scavo e rifaccio il giro di giostra, ancora e ancora, scavo e scavo e mi pare comprendere la mia parte in questa esistenza, mi voglio bene, qualunque cosa significhi, si estende in leggerezza di riso di pancia e sono fermo a osservare partecipando nel silenzio e nel grido alla creazione di scene. Sono pronto ad essere distrutto, io non esisto da un bel pezzo, ci amo dal vuoto tutto. Scusa, e tu invece?